Quando è finita la guerra, per una serie di strane circostanze, mi sono trovato prigioniero degli alleati, diciamo verso il 5-10 di maggio del 1945. Assieme a noi c'era un altro ufficiale del gruppo, un certo capitano Fioroni, che ci hanno prelevato con una G, gli americani, nominativamente e non so mai perché, ci hanno prelevato gli americani, passando vicino al comando di zona dell'aeronautica militare italiana, di Milano, dall'edificio del comando di zona, è venuto fuori, che era stato anche lui con la Repubblica, l'aerosilurante Marino Marini, che l'hanno riunita noi due, a me e quell'altro ufficiale, tutte e tre ci hanno portati da lì, nati a Roma in aereo, da cotto quello che andava avanti e indietro. A Roma tutte e tre ci hanno cacciato in una specie di campo di concentramento che c'era qui a Cinecittà, che doveva essere un campo di concentramento di personaggi un po' particolari perché era tutto fatto con fili spinati e divisi in reparti, credo però aver visto per esempio il comandante Borghese in uno di qui, quindi un personaggio un po' particolare che non so come ci fosse cascata in mezzo anche noi. Comunque siamo stati un mese lì a Cinecittà, dove ci hanno portato da Milano in aereo, da Cinecittà dopo un mese con dei camion ci hanno portato a un campo di concentramento molto più vasto che comprendeva un sacco di gente, anche di truppa, tutti più o meno della Repubblica eccetera, a Fragola, in camion. A Fragola siamo stati, adesso in questo momento non mi ricordo se siamo arrivati fino a Natale o prima o dopo, poco prima, sempre del 1945. Da Fragola a una certa data X, non so perché, ho noto che in tutto il periodo nessuno ci ha mai chiesto niente, mi ha chiesto a malapena nome e cognome e grado e basta, mai saputo perché. I carcerieri erano prima gli americani e poi gli inglesi. Da Fragola in carro bestiame ci hanno portati a Taranto e mi ricordo che allora avevo pensato che da Milano a Roma in aereo, poi in camion, poi in carro bestiame dico, meno male che l'Italia è finita qui perché se no la prossima tappa la facciamo a calci nel sedere. Con questa progressione qua, no? Comunque mi sono trovata da Fragola, da Fragola l'ultima a Taranto, esattamente a un anno di distanza, cioè fino al maggio del 1946. Al maggio del 1946 dove ho trascorso un anno secco lì, tra questi vari reparti, assieme all'amico Fioroni e a Marino Marini, un bel momento, tutti a casa, senza che nessuno ci avesse chiesto nulla oltre nome e cognome. È stato un anno così, sono tornato a Milano, avendo già accreditato con una buona votazione il bienio di ingegneria dell'Accademia, mi sono iscritto al Politecnico per laurearmi in ingegneria. Ho arrabattato un po' dal 1946 fino al 1950 il triennio che mi mancava per laurearmi, vicinissima la laurea, con tutte le frequenze a posto un buon libretto già pronte, la tesi pronta, l'amico Corrado Schreiber mi ha detto che l'Alitalian, se allora era la Lai, cercava piloti che conoscessero l'inglese. Non mi ha tenuto fermo nessuno, ho dato un grosso dispiacere a mia madre, ho mandato a moglie a Monte la laurea che già praticamente ce l'avevo in tasca e sono andato all'Italia, dopodiché ho fatto tutta la carriera fino agli anni quasi 80, 30 anni. L'unico particolare è che 3-4 anni che ero già all'Italia, Lai all'Italia, l'aeronautica militare si è fatta viva dicendomi che aveva analizzato il mio corso, le mie attività eccetera, che non c'era nulla da eccepire, che se volevo potevo rientrare. Io gli ho detto no scusate a questo punto, mi ero laureato ufficiale e stavo cercando di laurearmi in ingegneria, adesso mi sta andando bene nell'aviazione civile, basta. E infatti in quel modo lì ho liquidato l'aeronautica militare. Può capire da come le ho detto che me ne sono andato, poi insomma che fossero un po' nervosetto diciamo. Quindi da allora un po' proprio deliberatamente non mi sono mai interessato, altri forse più bravi di me, hanno cercato di andare. Io non mi sono mai interessato per niente, poi mi ho riagganciato alcuni colleghi d'accademia eccetera in anni molto più tardi qui a Roma, che però adesso sono mai persi di vista. Comunque ufficialmente so che per l'aeronautica militare ho sempre tenuto. Quando sono passato l'aviazione civile alcuni simpatici amici o del nord eccetera, o anche non del nord, che erano poi invece rientrati nell'aeronautica militare e magari volavano da caccia, ne cito uno solo, non so se ho avuto modo di sentirne parlare, Robertino Di Lollo. Era un bel pilota, un bel acrobata eccetera eccetera. E mi ricordo che Robertino diceva, voi che volate col gabinetto e il bagno appresso. Ma adesso che sto per dire? Grazie a tutti.